Giuseppe Silvestro è stato rieletto segretario generale della UELTUX Campania, il sindacato regionale della UEL del settore turismo, servizi e commercio. Dopo due giorni di lavori e il ricordo di Ornella Pinto, da sempre impegnata con il sindacato fino a che il compagno non l'ha barbaramente uccisa, l'Assemblea ha confermato all'unanimità Giuseppe Silvestro e anche il tesoriere Enrico Natale, eletti anche gli altri componenti del consiglio direttivo. Gli occhi del sindacato sono puntati sulla ripresa del dopo pandemia. Sentiamo il segretario generale della campagna, Giuseppe Silvestro. Uno degli effetti della pandemia è stato proprio quello di acuire il divario storico che c'è tra nord e sud. Noi abbiamo la visione del paese unitaria, logicamente, ma le nostre terre non possono più scontare l'arretratezza in cui vivono. Noi abbiamo la risorsa, l'occasione storica del PNRR, è che non dobbiamo e non possiamo permetterci di sprecare, non dobbiamo ripercorrere le strade vecchie che ci portano a ritornare al mittente queste risorse. Questo non ce lo possiamo permettere. Dopodiché in un mondo che tende al terziario e una regione che tende al terziario, le tematiche del terziario e del turismo devono essere al centro dell'occasione. Del contesto internazionale, in particolare del conflitto in Ucraina e delle sue conseguenze, ha parlato Brunetto Boco, segretario generale Wiltux nazionale. Ci sono anche le conseguenze economiche. Viviamo un periodo terribile di inflazione che colpisce tutti quelli che vivono di salario e di pensioni, perché l'inflazione poi si scarica su di loro, non è che si scarica da altre parti. e a questo bisogna dare una risposta e rimediare.